Quando penso a una top 3 di auto tutta avanti, quindi con motore e trazione anteriore, però piccole, agili, efficaci, goderecce, gira e che ti rigira, una francese ce la ficchi sempre in classifica. E allora mi sono chiesto, ma volendo restringere il campo e parlare solo di Renault, quali sono le 3 Clio più estreme, meravigliose, che a partire dagli anni 90 voi inserireste in una top 3, 3? Ve lo sono chiesto io, ve lo chiedo a voi e adesso ne parliamo. E visto che ogni tanto, diciamo spesso, vengo accusato di essere prolisso lungo, che mi perdo in dettagli storici che magari non interessano, vai dritto alla classifica, bene, sto giro la parte storica, quella documentaristica, la saltiamo a pie pari. Vi rimando soltanto al perché comprare la classica della meravigliosa Renault Clio 2000 Williams, che trovate sul nostro canale YouTube, per approfondire la genesi delle Clio più pepate di tutti i tempi. Ma visto che parliamo di Clio Williams, ecco dove posizionarla in questa top 3, ovviamente alla posizione numero 2. Perbacco, ma come in seconda posizione? Calmi, io adesso sto facendo il simpatico, mi fermo. So perfettamente che in tanti, nella propria classifica, avrebbero messo la Clio 2000 Williams in prima posizione. Io invece no, perché se siete stati attenti, con l'evoluzione delle dritte, o in generale, quando condivido qualche video di auto storiche, a parte perché comprare la classic avrete notato che il mio approccio di analisi è un po' cambiato ed è un po' cambiato proporzionalmente a quanto si sono gonfiati i prezzi delle storie che in maniera più o meno giustificata per me adesso un'auto va analizzata nel proprio contesto è vero nel contesto della sua epoca ma anche nel contesto dell'epoca in cui ci troviamo oggi quindi andatevi a vedere chiaramente perché comprare la classic della clio williams che per me rimane un'auto eccezionale poche altre macchine mi hanno trasmesso l'essenza degli anni 90 come ha fatto lei quindi chapeau tanto per rimanere sul francese però considerando una quotazione che può variare a seconda della serie della williams che state analizzando ma che comunque varia dai 12 13 mila euro fino lo potete vedere tranquillamente negli annunci online ai 20 22 25 mila euro per una clio williams fermi tutti allora io mi permetto di riflettere con me medesimo stesso e anche con voi sulla posizione in questa classifica della williams che si merita sicuramente di esserci ma al secondo posto perché era alla prima ora non lo è più anche se per prima l'ho citata perché comunque le milf a mio avviso vanno rispettate sempre terza posizione per la clio rs 2000 f1 team r27 questa specifica è perché si tratta della versione che più mi esalta però sì vado col polemico perché in molti definiscono quest'auto un polmone è ferma io quando ero giovane nel 2006 ero alla presentazione di questa macchina in portogallo d'accordo io guidai alla presentazione stampa la nuovissima clio rs 2197 slash 200 cavalli me la ricordo ancora era rossa bellissima a parte il fatto che a me piace molto di linea affilata meno tondeggiante di prima comunque bella concreta e solida e poi il fatto che non va è più che altro una percezione è chiaro che è una macchina più pesante rispetto alla leggerezza delle mini clio rs delle precedenti generazioni macchine più piccole più compatte questa ha un'impostazione differente però è più stabile magari sul veloce nelle percorrenze andate non lo so a imola monza al mugello in piste velocissime e provate a fare le stesse cose e vediamo quali delle due clio vi trasmette quel tipo di sicurezza sul veloce poi all'acceleratore elettronico tutto questo si trasforma in una percezione che la macchina non vada d'accordo anche la rapportatura del cambio è differente però di fatto la strada la fa e la fa alla grande poi subentrano i gusti personali o le sbavature che possono però essere risolte perché un'auto che ha più di dieci anni è chiaramente sottoposta all'analisi di tantissimi appassionati che col tempo hanno sviluppato miglioramenti micro miglioramenti che sono noti nei club nei gruppi quindi è un'auto che con poco può andare ancora meglio chiaro toglierle i chili di troppo rimanendo sempre omologati per la strada è difficile però secondo me non è un'auto carente di prestazioni tra l'altro una macchina usabilissima offerta anche a dei prezzi assolutamente intriganti a meno che non ricerchiate quella che piace a me vuoi per i sedili vuoi per la livrea un pomegan r26 cioè la f1 team r27 e la vincitrice è la clio 2016 valvole rs edizione limitata 172 cavalli no non è lei la ragnotti nemmeno e neanche l'ultima clio rs ormai l'avrete capito per me la numero uno è la clio 2016 valvole rs 182 cavalli essenzialmente la clio rs punto non dovrei aggiungere altro è compatta piccola leggera se vogliamo a quei plus per il quotidiano come clima digitale fare all'oxeno ma chi se ne frega di questi accessori questa è una macchina che sta mantenendo le sue quotazioni anzi stanno un po' salendo per come ti fa sentire quando la guidi la clio 182 si posiziona esattamente a metà strada fra quel cambio epocale tra guida analogica e peso digitale è l'ultima evoluzione di un progetto vincente partendo dal motore della williams poi 172 con la 182 siamo veramente alla chiusura del cerchio poi da lì in avanti con forme e metodi differenti è arrivata tanta elettronica sono arrivati accessori anche inutili se vogliamo e chili di troppo e la guida è stata sempre più filtrata mentre con lei eravate voi a dovervela gestire una macchina che andava guidata e sentita guidata davantreno un inserimento una precisione un modo di trasmettervi anche le perdite di aderenza che per me è semplicemente fenomenale arrivare al limite con cui cerchi da 16 era abbastanza rapido il bello il saper andare veloci con una clio 182 è saper danzare su quel limite saper far aprire o chiudere il posteriore nella quantità e nel momento giusto esattamente in quel punto di corda chiaramente sto parlando della pista perché nessuno guida così su strada naturalmente è una macchina che io sto descrivendo giustamente con quest'enfasi ma se domani per caso vi passano a prendere con una clio 182 e ci salite la provate vuoto per pieno vi sembrerà che la la a4 tdi 130 cavalli del più o meno lo stesso periodo di vostra cugina vada molto di più come percezione ci sta perché ci vuole tempo per capire in che modo fa strada velocemente questa clio 182 e ci vuole ancora più tempo magari per la rs 197 slash 200 ma con la 182 dovete darle un pochino di apprendistato d'accordo ma poi si instaurerà un rapporto tale per cui la definirete una delle migliori trazioni anteriori di tutti i tempi come peraltro hanno confermato i colleghi di evo uk che in numerose edizioni hanno voluto hanno anche premiato la clio 182 in versione trophy e qui apriamo una piccola parentesi è una versione che da noi purtroppo non è arrivata ma che a trovarne una le je son fait tre auto diverse che però puntano tutte allo stesso obiettivo divertimento di guida tutt'avanti quindi tutti per uno e uno per tutti con questa classifica no allora scrivetemi le vostre nei commenti ciao 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 ciao